Musica Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi siamo in un mondo veramente particolare Ma fighissimo E Ferre ancora non l'ha vista Allora Ferre sei pronta? Sì dove mi devo girare? Verso mi vedi? Eh sì vedo i tuoi piedi Verso qua vai Ok Che cos'è sta roba? Eh? Che cos'è sta roba? È una figata pazzesca È un mondo di Minecraft No aspetta aspetta Ho trovato il mio preferito Ferre non abbiamo neanche iniziato Accendino Accendino Ma che accendino che esplode il mondo? Ma sei impazzito Ma dai un pochino Tu sei pazza come un cavallo Un po' contiene l'esplosione Ma che contiene cosa? Ok Tu sei pazza Allora fammi vedere Che poi dall'altro qua c'è il vetro Quindi guarda No Arriva fino a giù Che figata Guarda questo Ma è bellissimo sto mondo Allora praticamente Ma come hai fatto a renderlo così? Com'è possibile? È una cosa che ho trovato in giro E praticamente permette Di rendere tutto il mondo di Minecraft Fatto divisa chunk Però sono chunk casuali Di un blocco specifico Quindi Che trip Che trip incredibile Però devi sapere Ok Che siccome volevo rendere interessante la cosa Ok Tra 8 minuti inizieranno a spawnare Dei mob molto particolari No cosa vuol dire? Eh sì Quindi dobbiamo cercare di prepararci con armi Tutto quanto Prima degli 8 minuti Corri Prendi TNT staff No per me Ma ti è chiaro che Dato che qualunque blocco casuale Può capitare anche Con i diamanti? Bello E dov'è? Non lo so Andiamo a cercarlo Vabbè No andiamo a cercarlo Prima ci serve della legna a priori Dai che sei inutile vai Ma cosa? Inutile? Sì Proprio tu Io? Allora fammi vedere Io sapevo che sei tu quella inutile Io non vedo niente di celeste Però sta a fare un altro di vetro L'ho trovato Di già? Sì È perché io li attiro È ovvio È lì? Sì Ma ci sono alberi vicini? Sì Sicura? Sì Ok ma Vieni Fede Sai che ci serve cobblestone ferro? Eh vabbè la troviamo Vieni qua Eh ok io arrivo Allora c'è addirittura Stef C'è anche di legno Cioè più di così Cosa vuoi? Guarda Vorrei quello di pietra Guarda Ok E guarda Lo puoi vedere che da qui Ma sono da un blocco addirittura Niente gli ore Esatto Oppi Belli Ci facciamo subito l'armatore in diamante Stef Ok Allora Fede Devi cercare anche quello di pietra Ok Mi raccomando Mi sa che è qui guarda Davvero? Stef Ma non possiamo avere tutta questa fortuna Qui ce n'è uno vuoto Vuoto? Vuoto Cioè si cade nel nulla? Sì Dove? Qui Lo vedi? Che roba strana eh Ma non è che sono No non sono nemmeno blocchi invisibili Aiuto No no cadi Aiuto Quindi c'è la cobblestone No cavolo non è cobblestone Mi sembrava Da lontano il colore Invece è un blocco di stone Quelli modificati Ah Non mi dire il nome scusate Sono Nabba Ehm Vediamo un po' Lana Ma questa è cobblestone Fede ce l'hai a fianco Dove? Non è questa? Ah qui dietro Sì io stavo guardando questi No Stef No 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 Stef me ne vado Me ne vado Non toccarli più eh Letale Letale totale Non toccarla più Mannaggia Possono succedere anche queste cose In un mondo del genere Che sfiga Allora vabbè Dopo un po' di fortuna Fede ma tu hai visto animali in giro? Ehm No Aspetta che ne approfitto Però potremmo trovare il bioma fatto di zucca Sì Stef io me ne sto un attimino approfittando del Aiuto a un silverfish del bioma Non il bioma del chunk Anguria perché sto morendo di fame Ecco dov'è? Qui Però ci sono i silverfish Eh pazienza arrivo Allora aspetta che uno magari Stavo cercando proprio quello lì Riesco a ucciderlo a mani nude Solo uno Consolini sto mondo è stupendo Cioè quanto sarebbe bello giocare a minecraft in questo mondo? Che bello No 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 Facciamo così Stef non ci credo Non ci credo Aspetta Non ci credo 17 Dimmi Guarda Un attimo Allora aspetta Io faccio da sola Facciamo così Eh mi serve altra legna Hai della legna? C'è della legna qui vicino Sì 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 guarda Non ci credo Allora aspettiamo anche questo Dove sei salita? Eh alla tua destra Cioè supera la collinezza E cosa c'è? Guarda Ma è ferro normale? È ferro Eh però non è E vabbè Stef va bene Cioè siamo disperati va bene Bene ma tipo tra un minuto iniziamo a spawnare mob Eh l'ho capito ma meglio di nulla Allora facciamo così Va bene Va bene Riesco a farla una fornace Allora Eh sì faccio La faccio io La faccio io Ti faccio una fornace Ok la fai tu Ok Allora Eh sì problema però La legna Sì ci ho pensato anch'io Ma è sempre tutto molto lungo così Eh certo Qua si muore Io lo so già Io lo so già che moriamo Ferri ti sembra almeno una spada? Eh ce l'ho al momento in legno Ma la farò in ferro Però mi serve un'ascia a sto punto Mi faccio un'ascia No Per combattere no Eh per la legna Eh vabbè Allora Allora Scusa non è più comodo Eh sì ok ma non in ferro Falla in pietra Sì Eh ok Ah vabbè Penso dovessi fare una spada No no Steph Ok ho la spada in ferro Ok Falla anche a me No Oh ma la faccio cosa no? Devo fare il piccone io Ti spacco la faccia Il piccone è più importante Perché col piccone Andiamo a prendere i diamanti Quindi corriamo dritti Scappando adesso E andiamo a fare quello Sì assolutamente L'anguria poi non sfama Cioè è tutto bello Ma davvero non sfama Ecco Steph Tieni 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 ho buttata Sì ce l'ho Recupero questa Ok Stanno arrivando mob? Per ora non lo so Steph dobbiamo correre al diamante Sì andiamo Ok Prendi tutto Oh Via Cosa sei? Eh fere sono speciali i mob Non sono normali in questo mondo Corri Aspetta la crafting No l'ho già presa Andiamo No c'era la mia Sto correndo Ok ma non c'è Facciamo due Steph ne hai uno dietro Ok No io scappo Dobbiamo ritrovare i diamanti Ok Muove e ritrovarli Esatto Allora vai da questa parte Si vai dritto Ok Quello lì sopra non sono diamanti Perché comunque è un celestino Però non riesco a vederlo bene da qua Lo so Steph neanche io Sono un po' più dietro di te No non lo so Secondo è prismarine Anche perché il diamante è abbastanza raro Cioè io non è che li ho trovati così tanto No vabbè Fere è totalmente random Tu potresti trovare anche una fianca l'altro Ok Sono proprio C'è anche di blocchi casuali Ho sentito una pozione rompersi Non c'è nessuna logica Non voglio girarli A riguardo Occhio non cadere Fere erano qua Erano qua Erano qua Ricordavo la zona Sì 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 Sono veramente bravissimo Sono un google maps di vento Andiamo Vai Forza 9 18 27 37 36 Ci devi fare l'armatura e l'arma 45 Fere C'è una witch strana Allora io ti proteggo Tu pensa a fare le cose Ok 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 No ma cosa sei Allora sta Mi ha preso in pieno Ma chi proteggi E Steph le sto schivando a chi Bel modo di proteggere Non roppere Sto morendo Sono avvelenata Fate un applauso alla protezione di Fere Grazie Steph io l'ho schivata Preso a te che mi fermo lì Che puoi dalla mia vita Sono morto Sono morto Sono morto Ma non sei morto Sono morto Ma che non sei morto Non sei morto Steph Eh Cosa mi sta prendendo Non lo so io sono morto L'hai fatta l'armatura Sì Muoviti Eh Dove sei Dietro Maledetto Pure Ho fatto morire sto qua Come Tu mi dovevi difendere E poi E poi cosa Il resto Il resto Muoviti Cosa pensi che sono Una discoteca vivente Esatto Tieni Allora Grazie Non ho altro Andiamo a combattere Che bello Eh Grazie No vabbè Io l'ammazzo A fare oggi Che idea era Scudami Allora Steph Dobbiamo prendere altri diamanti Ok Eh perché mi serve la chestplate Ma a casa dove frega Eh Altrimenti non sono performante Come dovrei Io c'ho tutto Quindi non mi interessa No vabbè A prenderli O sennò dammi il piccone Aiuto Sono zombie Sono cose che mi compagnano Che brutti comunque I mob blocchi Fortuna che gli zombie Prendono fuoco Sì almeno Aspetta grano Grano Che qua facciamo un po' di panini È molto meglio Dell'angunia No mob Ma dove Sbucate Non c'era nessuno Speri ci spawnano addosso E palete Eh lo so Combatti Sono troppi Oh basta Ok Ce la facciamo Ok Edz Sì vabbè Stef Mi ha oltre 18 addosso E sono arrivati gli scheletri Sì ma io dovrei prendere un po' di cibo Scusatemi Speri Non penso che interessi a nessuno Io arrivado sul grano Ok Un demordo Mangio 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 Occhio agli scheletri Disparano Non è possibile Vai Stef Vai Stef Vai Stef Vai Stef Vai Stef Siamo a posto col cibo per cent'anni Così No Ho paura Ma non è che l'armatura di diamante A questo punto Perfetto Ha funzionato la mia strategia Però almeno adesso Ah qui c'è la crafting che è lasciata Lo trasformo tutto in pane Aspetta Ok Ok Vai 21 panini Ottimo Ma che 21 panini Ne faccio 150 mila io Sì sta che non riuscivo a prenderli È un po' complicato Sinceramente No 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 So pra vivere in sto mondo maledetto So che potrei fare le cose anche io Ne deritte con Solini Ma non c'è il tempo No non c'è tempo Non c'è il momento Di starpermi Fare le cose 23 augure Non riuscivo neanche a prendere il grano Per mangiare ragazzi Cioè non fa Slime block Che figo No lo voglio vedere Della banalissima terra Ho le vici dietro E sto scappando Non l'avevamo ancora vista la terra Effettivamente Che strano Oh no Slime block Che belli questi Poin poin Oh A chi stai tirando le pozioni Ti ammazzo Smeraldi Maledetta Non trovo della legna No Bene Che c'è Ho trovato un villaggio Come Ci sono dei villaggi Aspetta ho visto dove stavi andando Arrivo Oh my god È andato a tirlo Che figo Ma è stupenda sta storia Arrivo No No Che figata Venga Sta roba è stupenda No questo mondo è meraviglioso ragazzi È il mondo più bello di Minecraft Ma è troppo figo Aia 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 Allora mi devi rovinare la vita Ho un problema Sono troppi Ci sono momenti in cui ne spawnano 50 tutti assieme C'è pure il baby Ci mancava Solo lui Ok C'è il biomaco e sono caduti lì Fantastico Allora 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 Facciamo così Facciamo così Trasformiamo Ma c'è anche il villager C'è il fabbro Steph Sì Il fatto è che vediamo se posso rubargli qualcosa Facciamo così Salve Ah qualche armatura per me Una sella Un sacco di ferro Steph Pane Mele Me le prendo molto volentieri Ferro e oro Le sta sgobando anche così Sì Allora Sì Dai non farò esplodere No Sì Sto poverini Gli ho fatto spawnare un creeper E stava per esplodere il fabbro Steph Qua ci sono ancora i blocchi di iron Che figo Gli iron blocchi Se li vogliamo No il blocco di magma Non l'avevo visto C'è il chunk Mi viene da dire blocco Ma è chunk Allora 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 Lì ci sono i venti È troppo frenetico Lo so Lo so Sto cercando una cosa ben specifica Ovvero Gravel È questa no? Sì Perché Un attimino Steph Sto combattendo Una persona intelligente e geniale come Steph Ha in mente il modo per far finire tutto quanto Ovvero Non posso dirtela ancora Uh aspetta È un segreto Oh grazie Meglio tardi che mai Ok 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 un botto di mani Oddio Che sta roba Ragni che brutti Vado Che brutti Sono orribili Aiuto Ok Che fico Guarda qua con il vetro Che figata Con l'acqua così Che meraviglia A te l'onore Buon divertimento Prego No posso? Sì Posso? Sei che è in tanto notte Non lo so Vai È un mondo strano Però vado E tanto l'accendiamo noi la notte Sei pronto? Vai Aiuto Per Ma hai crashato? Ma No io mi muovo Ma non esploda Attenti Mi scusi Non è possibile Si rompe Vieni a vedere Si rompe Però aspetta 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 Non ne guardiamo È basta Però mi dovete rovinare il momento Se ne mettiamo una noi Esatto Esatto Io l'ho recuperata Quindi la metto Che male Ecco qua Niente Si rompe È un mondo che Non ho mai visto una cosa del genere Su minecraft È un mondo Che previene La distruzione Sì No no Però no Cioè mi state lavando tutto il divertimento Qui Io non ci sto Non ho mai visto nulla di simile Poi Vediamo ancora Ma scusami Se invece la scendi qua Non funziona Quindi a fianco Sì Ok Ok a fianco Il più a fianco possibile Qui 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 Allora Aspetta Ok pronta E noi lo freghiamo questo mondo Noi rompiamo il sistema Ci sei Io vado Vai Dimmi che funziona Dimmi che funziona Sta funzionando Si sta funzionando No Però si è fermata la catena E basta Mannaggia Adesso non Non bruciano più Non bruciano più E' quello il problema Ok E poi sono molti di più Sì Perché non bruciano appunto Quindi lo vogliono Prima poi arrivano anche da soli Ma sono diversi dagli zombie di prima No no Sono gli stessi È che li vedi sempre insieme Ma no 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 Steffo mezzo cuore Ma che siamo pazzi Io Non sono ancora morto Dai Volevo far esplodere tutto il mondo Però Lo so Lo capisco Ma poi che mondo è Che diventa notte all'improvviso Ma che è sta storia Ma che ne so Ok Aspetta però stef abbiamo guadagnato un botto di TNT Aspetta 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 È davvero tanta tutta questa TNT Però sono molto delusa Riproviamo così Vediamo Vediamo vedere se le rompe Ma Ma cos'è stato Perché siamo stati spostati Non lo so Cioè perlomeno io Non lo so Ok Va bene Va bene Io ho tipo 47 di TNT Però Qua non mi fanno divertire Ok Va bene Comunque Guarda la glowstone in questo momento utilissima Come c'è anche Andiamo lì Andiamo lì Ci fermiamo così Spero che questo video di Minecraft super particolare vi sia piaciuto Questo mondo è veramente incredibile Proponeteci nel caso qualche idea che vi viene in mente da fare all'interno di Minecraft In un mondo del genere Perché potrebbe essere interessante da eventualmente riportare con qualche vostra idea super mega interessante Noi ci fermiamo così E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Ciao